Tra blocco dei tir e guerra in Ucraina rischiano di essere pesanti le ripercussioni sull'economia del nostro paese. Sono già tante le imprese che hanno rallentato se non fermato momentaneamente la produzione dopo la protesta degli autotrasportatori che pure sembra avviata la soluzione. Ma è il caro gasolio che tiene tutti con il fiato sospeso. Bollette, gas, grano, le conseguenze della guerra iniziano già a farsi sentire e si vedono le prime file alle pompe di benzina. Per questo faccio il pieno oggi, quindi ho paura che per quanto riguarda poi questa guerra è un pochettino difficile, il rifornimento eccetera. E poi non si sa se arriva o non arriva a causa che stanno bloccando anche gli autotrasportatori, non si sa. Momento difficile? Sì, sì, abbiamo finito con il coronavirus, ma non solo parliamo dei carburanti, ma di tutto è aumentato. In pieno no, però comunque bisogna metterla. Prima che magari i prezzi schizzino alle stelle? Sì, già era aumentato tutto prima, adesso si spera che finisca così, che non vada avanti perché effettivamente non è possibile più fare rifornimento, anche con una macchina diesel. Siamo un paese oltretutto privo di ogni risorsa e anche quando abbiamo qualche risorsa tipo il nostro gas non lo estraiamo, è chiaro che ogni sternuto per noi diventa un ciclone. Tutto, tutto è ringarato. Pensate, io lavoro in una gelleria, allora ho arrivato a 56 euro. Io prima con la macchina a gas consumavo pochissimo, adesso è proprio, non serve neanche più. Grazie. 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 Grazie.